Saranno le rocce lucenti di Ellie Dongigia ad illuminare l'estate artistica della Versilia. Shiny Rock è la mostra evento dell'innovatore artista italo-albanese che unirà per la prima volta la brillantezza e il movimento high-tech dell'acciaio delle sculture, dei bassorilievi ed altorilievi tridimensionali, con il marmo bianco dell'altissimo e il bronzo lavorato dalle storiche fonderie di Pietrasanta. L'esposizione è stata presentata a Firenze, a Palazzo Panciatichi, con il patrocinio del MIBAC, del Consiglio regionale e dei comuni di Pietrasanta, Forte, Marmi e Camaiore. Un'esposizione che si annuncia coraggiosa, intrecciando le materie e le tecniche tradizionali con le nuove forme sperimentali di arte e di design. L'ispirazione delle mie opere viene dritto dalla musica, perché la musica ha quei suoni, quei modi di comunicare universali e io ho sempre cercato di comunicare con la mia arte, con un linguaggio musicale universale. Lo vedranno i visitatori, chi arriverà a visitare questa grande mostra, un livello sicuramente superiore anche nei confronti stessi di quello che ha fatto fino ad oggi, se non altro per esserci cimentato con delle opere monumentali impressionanti, di grande impatto. I monumenti di Gigia saranno esposti dall'11 giugno fino al 25 settembre a Pietrasanta, tra piazza Duomo e Sant'Agostino, sul pontile di Marina e sulla terrazza panoramica di Capezzano Monte, a Forte, Remarmi, in piazza Garibaldi, di fronte al Fortino e al pontile di Lido di Camaiore. Si suggella veramente un lavoro, un lavoro di mesi, che ha portato a questa importante manifestazione che appunto, come dicevo, avrà la sua partenza l'11 giugno prossimo alle ore 19.